Un saluto da Giuseppe Davittis, amici del Triveneto e dell'Emilia Romagna, ben ritrovati come di consueto all'appuntamento meteo. La situazione non cambierà nemmeno nei prossimi giorni, tempo a tratti instabile, anche se ci sono buone notizie per il primo di maggio, almeno sino al tardo pomeriggio. La situazione dovrebbe risultare abbastanza tranquilla, con cielo prevalentemente sereno, quindi una bella mattinata, un bel pomeriggio ben soleggiato. Solo il tardo pomeriggio e la sera tenderà a peggiorare sui rilievi alpini e prealpini, ma ne riparliamo. Intanto vediamo la giornata di martedì, a risveglio, guardate, molte nuvole quasi ovunque, soprattutto verso il delta del Poco, rovesci di pioggia proprio al confine tra l'Emilia Romagna e il Veneto. Vediamo invece la situazione sulle restanti zone, molte nuvole ma con basso rischio di piogge. Piogge che invece torneranno nelle ore centrali della giornata un po' su tutti i rilievi, ma non solo, anche sulle pianure limitrofe, qualche scroscio di pioggia anche in Emilia Romagna, sempre e soprattutto su zone attorno ai rilievi. In serata lentamente le piogge diverranno meno insistenti e probabili. Vediamo le temperature minime, pressoché stazionare, temperature massime, il lievissimo, ma proprio il lievissimo rialzo. Avremo venti deboli su tutto il territorio. Per ora amici mi fermo qui, buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Per ora amici mi fermo qui, buon proseguimento di giornata.